Allora ragazzi qui è Del48, si è la prima volta che mi vedete con questa ripresa qui Allora ho il cello un attimo diverso da quello che avevo prima perché ho avuto dei problemi tecnici Quindi se la qualità è un po' così così è normale, è normale Lo so è da molto tempo che non faccio video, lo so purtroppo ma quando si tratta di lavoro e tante altre cose subentrano Non ho più tempo, ma a parte che mi sono anche fissato con qualche serie tv Quindi non ho tempo con i videogiochi, beh sto appresso a serie tv In questo caso mi sto riguardando Big Bang Theory Va bene, si mi ha leggermente riattaccato, posso dire che la guardo in quattro giorni di fila Mi sono fatto in l'ottava stagione, quindi però shh Mi ha leggermente fatto il saluto, vabbè si si Va bene, che cosa devo dire? Beh a parte che ho visto qualche trailer di film interessanti come ad esempio la famiglia Adams in 3D D'animazione che uscirà a novembre Ad Halloween per essere esatti Cioè in realtà non si sa, hanno detto a ottobre però si parla forse verso il novembre Quindi si, festirà dei morti Comunque, oltre a questo, che volevo dire? Qua ci sono delle piccole news, non volevo fare nessun video dedicato mentre giocavo per le schede le news Ve lo dico direttamente tu per tu Allora ci sono gli aggiornamenti di Mortal Kombat 11 che usciranno finalmente Anzi, uscirà finalmente il DLC Combat Pack Però, attenzione, le news verranno introdotto Verrà più che altro con gli aggiornamenti Verranno prima fatte le live per la descrizione del DLC del Kombat Pack E poi forse uscirà il DLC Premessa Tra una settimana Una settimana uscirà questo video Diranno quali saranno i personaggi del Kombat Pack Li mostreranno E la data effettiva quando uscirà Non lo so quando sarà Ma io avrò una settimana di anticipo Allora, avendo io una settimana di anticipo Che ho fatto il pre-order E avendo fatto anche la Premium Edition Proprio per questo motivo Non so se vi posso far vedere i personaggi Non so neanche se posso trogiocarli subito Però se avrò l'occasione Qualche icone, immagine Magari farò una live In merito Un video, scusate In merito Live no Non ho tempo per fare live Magari facessi tre ore di gioco Ma niente Però, però Avrò un progetto in mente In questi giorni Ho scoperto che A giugno Quindi Anzi In questi mesi estivi Ci saranno degli aggiornamenti Dedicati a Jurassic World Molto interessanti Nuovi futuri DLC Nuovi upgrade Cose interessanti Forse la voglio fare una live Forse è dedicata a giugno Jurassic World Lo so Perché Sarebbe interessante Per un semplice motivo Per la live con Jurassic World Lo stavo pensando Perché magari molti Sendo paleontologi O adorano i dinosauri Posso fare molte domande Mentre gioco E potrò rispondere a tali domande Stessa questione Magari con Mortal Kombat Come i personaggi Che potranno uscire O non uscire DLC Eccetera Che mi piace rispondere a domande Soltanto che non ho sempre avuto occasione Però ci sto molto pensando A sta cosa Altri aggiornamenti Vabbè Batto Front 2 Aggiornano ogni volta Ogni mese Però Questi aggiornamenti Sono Pochi Poveri Ok Uno mo direbbe Ah quindi Non lo porti Perché non ci sono Aggiornamenti effettivi Esatto Non è perché Non ci sono Aggiornamenti interessanti Ci sono Però Sono pochi Sono dedicati A modalità O almeno Alla stessa modalità Con una mappa attuale Che poi è la stessa Che esiste già Non ci stanno Nuovi costumi Non ci sta Un nuovo pianeta Non ci sono cose Nuove classi Non c'è niente Di veramente Di interessante Lo ammetto Poi Quale altra cosa Poi Poi Ah stessa cosa Con The Eye Lo so che molti Mi stanno Forse Alcuni Non molti Alcune Anche persone Che mi conosco Di persona Mi hanno detto Eh ma The Eye Non lo stai più portando Non ci sono aggiornamenti Anzi Forse so anche Il perché Uscirà Un gioco Che secondo me Jurassic World Si è messo in moto Proprio perché Uscirà Planet Zoo E Prehistoric Kingdom Quel Prehistoric Kingdom Che ho feci La demo Tanto tempo fa Praticamente Un anno fa Ma è migrato Moltissimo E ha fatto vedere Molti dinosauri Che loro stessi Sviluppatori Hanno creato Hanno mostrato Eccetera E crede che Jurassic World Si è leggermente Cagata Scusate per il brutto termine Lo so Lo so Lo so Però C'è una ragione Jurassic Kingdom Si dedica molto Alla paleontologia Quindi è molto Più realistico E è uno zoo Jurassic Parla Dai cuccioli Fa vedere Fino alla crescita Adulta Del dinosauro Jurassic Park O comunque Jurassic World Evolution In questione No Qui ha notato Che forse Questa è una pecca Essendosi un parco Però è comunque Dedicato a uno zoo E non ha niente Di zoo Effettivamente Jurassic World Evolution In che senso Si c'è il recinto Si c'è il dinosauro C'è il cibo Ma basta Non ci sta Di creare Un'ambientazione Personale Il dinosauro Non è che tu Devi mettere La sabbia Per adattarlo Non è che Devi mettere La neve Non è che Devi mettere Terreno Fango E quant'altro Come nei Tutti Giochi Gestionali A tema Zoo Che esistano Allora lì Jurassic World Evolution Si è iniziato a preoccupare Vi dico Gli aggiornamenti Veloci Hanno aggiunto Il pesce Non per animali acquatici Ma il pesce Da mettere Come cibo Come terzo Tipologia di cibo E c'è stata Un'immagine Di uno spinosauro Che mangia il pesce Mmm Furbacchioni Allora Vuole dire Che I dinosauri Varierà Il loro cibo Non sa più Che tutti i carnivori Mangiano carne Ma ci sono I pescivori In questo caso Il succomimus Lo spinosauro Il 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 Baryonyx Quelli Sono già Dinosauri Che mangiano Pesce E alcuni Forse hanno Ipotizzato Che ci sarà Forse un DLC Dedicato Alla famiglia Dello spinosauro Non è una cattiva cosa Futuro DLC 1993 Si chiama 1993 È un DLC Dedicato A Jurassic Park Lo stile Parla proprio Di Edifici Strutture Molto Interessanti Ci sarà Un DLC Dedicato A A Dinosauri Di Jurassic Park Operation Genesis L'hanno confermato Allora Vuol dire Che stanno facendo Tutti questi DLC Perché hanno capito Che Conviene Attirare Sia I fan Di Jurassic Park Ma devono Far attirare Anche Chi è fan Della paleontologia E vogliono Aggiornare Perché Dicono loro Isgruppatori Ok Noi facciamo Un gioco Su una saga Cinematografica Quindi non li facciamo Perfetti Dinosauri Però Cerchiamo di renderli Correttamente In maniera più corretta In ambito studio Paleontologo Ok Quindi cerchiamo Di essere più onesti Perché hanno paura Di questo confronto Io lo so Lo immagino Forse è una mia Opinione Una mia idea Ma Io la vedo così Perché Qualcosa Bolle in pentola Oltre a questo Come altri aggiornamenti Volevo portare Qualche gioco Qualcosa Però ho iniziato a notare Che Porto Alien Nessuno Lo vede Doom 3 Stessa cosa Ho notato Stessa cosa Equivale anche Un'altra tipologia Di gioco Che ne so Bioshock Le ho un po' Lasciate Lasciare Le ho poi Lasciare Anzi Ci gioco Per fatti miei Onestamente Ho deciso Adesso Perché Non è che attira Però Mi dispiace Che sto Cerca di applicarmi A quei video Però a sto punto Lascio voglio stare Preferisco a sto punto Fare solo sui dinosauri Su giochi strategici O comunque su qualche Altro capitolo Che può Effettivamente Interessare al pubblico Che comunque mi segue Se è iscritto al mio canale Volevo alternare Ogni tanto Però Meglio a sto punto Rimanere Sui dinosauri Sui giochi strategici Militari come XCOM O qualche gioco strategico Warhammer Vabbè Dinosauri Quindi Parchi Anche Zoo Sì perché Planet Zoo Lo metterò qualche video Dedicato agli animali Perché io sono anche Non esperto Adoro gli animali Quindi Tra dinosauri Animali A voglia fa E Star Wars Ovviamente Bene Detto questo È durato abbastanza il video Spero di essere stato Bastato soddisfacente E chiaro Sulla situazione Il video E vi saluto Perché mo' Devo andare E devo uscire E devo fare dei servizi Bella ragazzi Guido del 38 Passo e chiudo Tranquilli Farò un video Anche con l'armatura Prima o poi Di nuovo Con calma Arrivederci